Vediamo ora gli atti analogici. Quando esprimiamo un messaggio ci serviamo abitualmente della parola. Dunque utilizziamo un contenuto logico e razionale attraverso la parola ma insieme alla parola esprimiamo anche altre informazioni molto importanti non verbali. Lo facciamo con la nostra postura, con la nostra voce, il nostro timbro di voce, il ritmo, il tono. Lo facciamo con i nostri sguardi così come con l'uso dei gesti, dei toccamenti. Ecco, tutti segnali difficilmente recepiti dalla parte razionale del nostro ricevente ma sicuramente di grande importanza con riferimento alla nostra sfera emozionale. Tanto importanti da generare uno stato reattivo dinamico, cioè mutevole, continuo, in grado di modificare proprio i nostri comportamenti, sia in senso negativo che in senso positivo e in modo a volte anche radicale, senza che la nostra parte logica ne sia conoscenza o tantomeno possa governare tutto questo. Queste reazioni si manifestano in modo inconsapevole, subliminale. Si tratta proprio del linguaggio, l'alfabeto dell'inconscio che ci consente attraverso la sua decodifica di metterci in contatto diretto con la nostra emotività e con quella dei nostri interlocutori. E dunque vediamo le classi di questi atti analogici. Vedremo che ci sono tre categorie di atti analogici o segnali subliminali o inconsapevoli, di scarico tensionale, di rifiuto, di gradimento. Lo scarico tensionale ci informa che abbiamo toccato un punto sensibile, ben inteso anche su noi stessi se stiamo formulando un pensiero di un certo tipo. Quell'accumulo di energia ha bisogno di essere scaricata e verrà fatto proprio attraverso un atto analogico, ad esempio con un raschiamento della voce. La cosa che tutti conosciamo, capita a tutti noi, ecco il raschiamento, a meno che non ci sia una raucelline o comunque un aspetto patologico, manifesta proprio un punto di accumulo di tensione che in quel momento viene scaricato. Altri segnali importanti di scarico di tensioni sono ad esempio la deglutizione o ancora tutta la classe dei pruriti e dei grattamenti. Quante volte noi ci grattiamo senza rendercene neanche conto in varie parti del corpo? Ecco, il prurito e il conseguente grattamento ci raccontano invece molte cose della nostra sfera emozionale. E soprattutto è importante mettere a fuoco la zona nella quale si manifestano i nostri pruriti e i conseguenti grattamenti, ricordando che il viso rappresenta un po' il massimo centro tensionale, soprattutto nella zona intorno al naso. Sul naso si concentra il massimo, ripeto, del carico tensionale. Quindi un prurito e un grattamento, ad esempio in questa zona, ci segnaleranno che c'è un accumulo di tensione di una qualche significanza. Ma ad esempio un grattamento su un braccio piuttosto che su un ginocchio avranno sicuramente una valenza minore. E' importante mettere a fuoco anche questo aspetto. Il segnale di scarico tensionale non ci sta ancora dicendo dove è diretta quella tensione. Potrà essere uno scarico di tipo positivo o negativo, quindi con un gradimento o un rifiuto. Ma come facciamo a renderci conto se stiamo dando un segnale che porterà ad un rifiuto o a un gradimento? Beh, proprio insistendo su quello stimolo. E altri segnali di scarico tensionale sono, ad esempio, non so, cambiare un dondolio del corpo mentre si sta in piedi. Tutte cose che capitano normalmente nella nostra giornata ma delle quali non ci rendiamo conto. O, non so, giocherellare con la penna in questo modo. Un altro segnale di scarico di tensione è, ad esempio, il colpo di tosse improvviso quando non siamo raffreddati. O anche le variazioni del tono della voce, dalla raucedine fino alla fonia, sempre in presenza di una condizione di salute ottimale. E registriamo anche variazioni neurofisiologiche come pallori, tremori, respirazione affannosa, respirazione affrettata. O come anche un'ipersudorazione. O ancora, ad esempio, un sospiro. Sono tutti scarichi tensionali, sono tutti messaggi importanti. Tutti segnali estremamente significativi che ci stanno intanto informando che stiamo fornendo un servizio emotivo al nostro interlocutore. Ma anche che, continuando a inviare quello stimolo, avremo con tutta probabilità una risposta da parte del suo inconscio, sia in termini di gradimento che di rifiuto. Ma quali sono i segnali di rifiuto e di gradimento? Beh, cominciamo con quelli di rifiuto. Abbiamo visto poco fa una dimostrazione di sensibilizzazione attraverso i quattro canali di comunicazione non verbale, tra i quali la prossemica. Ebbene, un arretramento del corpo, sia nella posizione in piedi, ma anche da seduti, per esempio abbandonandosi su una poltrona, su una sedia, sono manifestazioni di rifiuto dalla nostra parte inconscia. Così come un altro segnale estremamente significativo, e direi anche categorico, è quello sul naso, cioè lo sfregamento in orizzontale o in verticale del naso. Ecco, sul naso, come dicevamo prima, c'è il massimo carico tensionale. Quando si verifica non più un grattamento, ma uno strofinamento, uno sfregamento, ripeto, in orizzontale o in verticale, il nostro inconscio sta esprimendo un rifiuto netto. Quindi se il nostro interlocutore ci sarà dando un segnale di questo tipo, sarà bene proprio abbandonare l'argomento che stiamo trattando o il comportamento che stiamo assumendo in quel momento, poiché il suo inconscio sicuramente non farà del suo meglio per venirci incontro. Un altro segnale di rifiuto è quello, per esempio, dello spolverarsi l'abito. Come anche, non so, rimuovere delle briciole da un tavolo, quello che è comunque il mandar via, è comunque un segnale di rifiuto. Ma a proposito di mandar via, anche l'allontanamento degli oggetti, per esempio se siamo seduti a un tavolo con un interlocutore, sarà interessante osservare se la persona che è con noi starà allontanando da sé degli oggetti, il bicchiere, piuttosto che una posata o una penna che è sul tavolo. Ecco, tutto ciò che viene allontanato manifesta proprio un atteggiamento di rifiuto da parte del nostro inconscio, cioè quel tipo di stimolo, quel tipo di tensione non è a lui gradita. E ancora, incrociare le braccia oppure chiudere una giacca. Segnali di rifiuto. Sarà importante non trascurare questi segnali di rifiuto, perché come dicevamo poco fa, l'inconscio non farà del suo meglio per farci fare un qualcosa che stiamo rifiutando o che il nostro interlocutore sta rifiutando. E veniamo ora alla terza e l'ultima classe di segnali, cioè i segnali di gradimento. Ecco, quando noi o i nostri interlocutori manifesteremo uno di questi atti analogici, di questi segnali, e significherà che il nostro inconscio gradisce quella microtensione, quella fonte di stimolazione che sta pervenendo dall'esterno o anche dall'interno, ad esempio con un pensiero che stiamo formulando in quel momento. Abbiamo visto poco prima appunto la dimostrazione sui canali di comunicazione non verbale e sulla prossemica. Ecco, al pari e in opposto a quanto abbiamo detto sul rifiuto, quando verificheremo un avanzamento del corpo nostro o del nostro interlocutore, quindi in avanti, sia nella posizione in piedi che da seduti, ebbene saremo davanti ad un segnale di gradimento, cioè il nostro inconscio sta esprimendo un sì, un assenso, un consenso su quello stimolo. Altri segnali di gradimento importanti sono ad esempio l'accarezzamento del capo, come anche i segnali sulla bocca, ad esempio un mordicchiamento del labbro inferiore o superiore mostrerà un chiaro gradimento, così come anche quello che nelle discipline analogiche viene definito il linguino, cioè l'inumidire le labbra. O anche ancora un'altra simpatica figura che è quella del bacio analogico, cioè lo sporgere le labbra, così. Pensiamo ad esempio, non so, quando stiamo guardando un bel quadro, bello, un bell'abito in vetrina, è come se baciassimo quell'oggetto o volessimo baciare noi stessi. Allo stesso modo portare un dito alla bocca, o la mano alla bocca, o accarezzare le labbra, sono tutti segnali di gradimento. Abbiamo visto prima, nel caso dei segnali di rifiuto, l'allontanamento degli oggetti dal tavolo e naturalmente se la risposta del nostro inconscio sarà quella di un gradimento, il nostro interlocutore o noi stessi avvicinerà o avvicineremo gli oggetti a noi. Come anche abbiamo visto il chiudere una giacca, un indumento, un segnale di chiusura, naturalmente aprirlo, magari togliere la giacca, è un segnale di apertura e quindi di gradimento. Bene, abbiamo visto anche che tutti questi segnali, sia quelli di scarico tensionale, che di rifiuto, che di gradimento, sono segnali cosiddetti subliminali, cioè inconsapevoli. Dunque può capitare che, mentre stiamo parlando con qualcuno, il nostro interlocutore afferma qualcosa in un senso, il suo inconscio stia dimostrando invece il contrario, proprio con i suoi atti analogici di emissioni o di ricevimento di microtensioni. Allo stesso modo, la persona potrebbe dare una risposta negativa, mentre invece il suo inconscio sta esprimendo un bel sì. Ad esempio, stiamo parlando con un caro amico, una collega, vado a fare due passi, vieni con me? E la persona risponde, no, ho ancora troppo da fare, ma mentre dicevamo quel vado a fare due passi, vieni con me, si è accarezzata il capo. Ecco, lei sta dicendo in perfetta, o lui, perfetta buona fede, che è ancora troppo da fare, ma il suo inconscio invece sta esprimendo un gradimento netto, quindi desidera fare quella cosa. All'opposto, non so, illustrando un progetto, che ne pensi? E la persona può dire, sì, molto interessante, e mentre lo dice, si sfrega il naso. Ecco, lui potrà anche pensarla, sicuramente in buona fede, ma il suo inconscio non è di questo avviso. Quindi quel progetto, con tutta facilità, troverà un po' di difficoltà nell'essere realizzato. Oppure ancora, immaginiamoci, non so, in una conversazione, con un'altra persona, e stiamo parlando del nostro ultimo bel viaggio, e mentre descriviamo questa bella esperienza, il nostro interlocutore farà, o ad esempio, una deglutizione. Bene, ci sta informando che abbiamo per l'appunto toccato un punto sensibile. Ma cosa vorrà dire questa risposta analogica? Beh, non lo sappiamo ancora, dobbiamo continuare a inviare quello stimolo, e quindi continueremo a parlare di viaggi, ad esempio, e dire, ma sai, trovo che il viaggio sia un'esperienza affascinante, e mentre diciamo questo, la persona potrà fare un segnale come questo, oppure arretrerà, si abbandonerà sulla sua sedia. Beh, l'inconscio ci starà dicendo che sul viaggio, con tutta probabilità, la persona vive un vincolo, una difficoltà. Ma se invece, alla stessa frase, trovo che il viaggio sia veramente un'esperienza affascinante, la persona darà un segnale di gradimento, o un linguino, o comunque un avvicinamento del corpo, beh, ci sarà dicendo che invece quella cosa piace molto al suo inconscio, e ci avrà espresso un desiderio che si risolve proprio in quell'atto, nel momento in cui esprime questo gradimento. Quindi, nell'altro caso sarà un vincolo, in questo sarà un gradimento e dunque un desiderio. È dunque evidente l'importanza di conoscere il linguaggio del nostro inconscio e i sistemi di sensibilizzazione della nostra sfera emozionale per ricercare e raggiungere quella comunicazione totale, quell'arte delle emozioni che è in grado di farci conseguire quel consenso da parte dei nostri interlocutori, evitando trappole comunicative, malintesi, conflitti, e giungendo soprattutto ad un autentico, armonioso incontro emozionale. Grazie.